Il big match della giornata numero 14 del campionato di eccellenza regionale Girone B ha visto l'US Agropoli vincente per due reti a uno contro la seconda in classifica, il San Tommaso. Subito Agropoli pericolosa, dopo il primo minuto tiro dal limite di Masocco respingeva Didonato. Al terzo vantaggio agropolese, Limatola era lesto a raccogliere dal limite e a fulminare il portiere ospite, davvero un grande inizio per i Delfini. Al sesto retropassaggio errato di Garofalo non ne approfittava Vallone e Russo raccoglieva senza problemi. Al quattordicesimo ancora pericoloso Limatola, di testa, palla alta di poco. Al diciassettesimo tiro secco di Dattilio, respingeva Didonato. Al diciottesimo Graziani, vicinissimo al 2-0, palla che attraversava tutto lo specchio e finiva fuori. Al ventitresimo occasionissima per gli ospiti, diagonale dal limite, rasoterra di carotenuto, palla sul palo. Alla mezz'ora bel tiro poco oltre la metà campo di Natiello, grande parata di Didonato. Sul successivo corner battuto da Capozzoli, colpo di testa ravvicinato di Francesco Russo, palla alta. Al quarantaduesimo splendida serpentina in area di Capozzoli, azione che meritava miglior sorte ma la palla terminava sull'esterno della rete. Era l'ultima occasione di un primo tempo davvero ben giocato dall'Agropoli. Si va al riposo. Al cinquantaduesimo l'arbitro assegnava un rigore agli ospiti per fallo di mano di Dattilio, abbastanza dubbio, ma Trimarco calciava alla sinistra di Russo sul fondo. Al sessantaduesimo tiro dai trenta metri di Masocco, palla fuori. Tra il sessantanovesimo e il settantesimo due reti, una agropolese e l'altra ospite. La prima di Natiello davvero strepitosa, con palla sotto il sette da oltre trenta metri per gli ospiti in rete. Rapolo che beffava da un lancio dalle retrovie Russo in uscita. Al settantaduesimo palo del Santommaso, bel dribbling di Trimarco in area dopo aver driblato un difensore agropolese. All'ottantunesimo bella sventagliata di Masocco per Delli Santi, entrato al settantesimo al posto di Limato, la tocco di punta raccoglie di Donato. Al novantatreesimo ci provava carotenuto su punizione, Russo alzava in corner. Non accadeva più nulla dopo i sette minuti di recupero. Vittoria importantissima per l'US Agropoli che sale a quota 23 e si rilancia prepotentemente nelle zone alte della classifica. Un primo tempo buono da parte nostra, però anche il Santommaso ha creato le sue occasioni. Dopo il cambio di sistema di gioco loro siamo andati un po' in difficoltà. Abbiamo iniziato a calciare palla in avanti, cosa che non dobbiamo fare. Noi siamo una squadra costruita per giocare a calcio. Il secondo tempo abbiamo riniziato bene, abbiamo trovato il gol, poi una disattenzione difensiva che ci può stare, un'incomprensione tra Luca e Sam, ha portato al gol loro, che ha ringalluzzito i nostri avversari, ha creato un po' di timore nei miei giocatori. E poi da lì è stata sofferenza perché il Santommaso è forte. Il Santommaso è secondo in classifica, il Santommaso ha perso la prima partita di campionato con il Cervinara e poi ha fatto un filotto di 12 risultati utili prima di questa partita e quindi era normale che ci fosse sofferenza per ottenere la vittoria. Sono stati bravi i ragazzi a soffrire. Mi è piaciuta l'altra reazione dei ragazzi, hanno dato tutto il primo tempo in un campo difficile, un campo duro. Il primo tempo noi abbiamo fatto circolare molto la palla, abbiamo corso tantissimo, loro purtroppo sono stati chiusi e poi sono usciti fuori naturalmente per gli ultimi dieci minuti e abbiamo sofferto un pochettino. Quello che è sembrato a noi forse bisognerebbe rafforzare un po' più gli uomini disponibili perché nella parte finale della partita abbiamo visto una difficoltà per l'Uest Agropoli di reagire. Le sembra? Sì, c'è stato perché hanno dato tantissimo, le punte hanno dato tanto, Dattilio, Capozzoli, Limato l'hanno dato tanto. Nel momento in cui sono usciti tutti e tre si è visto naturalmente un pochettino all'assenza, noi ci siamo abbassati, era stata una scelta del mister che poi ha tolto il 4-3 e si è messo a 5 al centrocampo, giusto per chiudici, per portare a casa il risultato, non se lo aspettavo di prendere quel gol, però è andata così. Prendiamoci tre punti, in questo caso è andato bene, ma penso che sia tutto meritato, non si può dire niente, sono quello degli ultimi 7-8 minuti che loro, però in occasioni da gol diciamo non ci sono stati. Noi con le 6 parate che ha fatto il portiere, Capozzo altrettanto, se pensiamo, spero solo che non si possa dire che loro hanno sbagliato il rigore, se ci potevano pareggiare, ma noi potevamo fare almeno quei 7 gol, con noi 6-7 gol che ci potevano consentire di chiudere la partita prima.